Martedì 15 novembre, buongiorno da Sicilia 24, rieccoci puntuali come sempre per la nostra consueta rassegna stampa mattutina, andiamo a fare il nostro classico giro dei quotidiani, andiamo a scoprire le anticipazioni in prima pagina per vedere quali sono gli argomenti più importanti della giornata. Partiamo subito, cominciamo con il quotidiano la Sicilia, in primo piano c'è l'emergenza migranti, questo è il titolo senza fine, sbarcati ieri a Catania 209 migranti, con loro c'erano anche 35 minori e a proposito dell'emergenza migranti, Mattarella si fa garante, telefonata con Macron, mossa concordata con Meloni per congelare la crisi diplomatica, vedremo se questa telefonata avrà gli effetti sperati. Politica regionale, il centro-destra impantanato, giunta, i meloniani sfidano Schifani sugli esterni, vertice notturno a Palazzo d'Orleans oggi le scelte, mentre parla Minardo della Lega che dice ai siciliani serve altro. In taglio laterale, Banca Italia, Sicilia, caro bolletta e inflazione pesano, prevista per fine anno una frenata dell'economia. E poi si parla anche di energia, flussi dalla Tunisia e più consumi dai car, sfida della transizione per la rete elettrica. E infine la riforma pensioni, nel 2023 si va con quota 103, almeno 62 anni di età e 41 di contributi. Vertice importante a Bali, G20 intesa tra Stati Uniti e Cina sull'Ucraina, monito alla Russia, no al nucleare. Andiamo in taglio alto, si parla di calcio e del Catania, Catania che vola con i gol vincenti di Jefferson, tutta la città dice ci sta spingendo verso la felicità. E a proposito di Catania, in via Androne, manette dopo una rapina violenta, sempre a Catania, un minorenne non andava a scuola per spacciare ma è stato preso. A Paternò invece stoppa la convenzione, autovelox spenti, taormina, l'anticorruzione dice sì al segretario. Lasciamo il quotidiano alla Sicilia, adesso andiamo a vedere cosa ci propone il giornale di Sicilia, sotto i riflettori le questioni legate alla regione siciliana, alla politica regionale, regione c'è già aria di crisi. Designati 8 assessori su 12, mancano quelli di Fratelli d'Italia che insiste sui nomi di due non eletti all'ARS. Schifani non arretra, richiesta senza caponecoda e minaccia addirittura le dimissioni. Decreto firmato, partirà da Gela il gasdotto Italia-Malta, il via del governatore e poi notizia che abbiamo visto anche prima, Banca Italia, il PIL siciliano vola a più 5,8% e l'inflazione è dei record. La manovra dai tagli al reddito, i fondi di quota 41, mentre c'è spazio anche per l'emergenza migranti, Mattarella telefona a Macron, filo di dialogo aperto. E ancora faccia a faccia a Bali prima del G20, intesa tra Xi e Biden, no all'uso della bomba atomica. A Partanna esplosione nel capannone ustionati 5 operai, mentre l'Università di Palermo, la scommessa di Terna, 15 studenti verso il lavoro. E sempre a Palermo, Movida senza regole, in via Macheda, passata al setaccio dai vigili urbani, in questo caso sono, vedete, 35 i verbali. Andiamo in taglio alto, Rosi e il bandito Giuliano vite intrecciate, la nascita 100 anni fa, si parla anche di cinema con Ficarra e Picone che lanciano spaccaossa il film sui mali di oggi. E poi l'attentato in Turchia, catturata una donna per la bomba di Istanbul, Erdogan prepara la rappresaglia contro i kurdi. Lasciamo anche il giornale di Sicilia, proseguiamo con l'edizione palermitana del quotidiano la Repubblica, ampio spazio alla politica regionale, la mezza squadra di Schifani, titola Repubblica, ore di tensione per la formazione della Giunta, mentre si avviano le procedure per le deleghe. Da Roma il partito di Meloni chiede l'inserimento di due non eletti trattative nella notte. Il governatore convoca gli assessori, ma quelli di Fratelli d'Italia, vedete, non vanno. E poi l'inflazione sulla Sicilia, le nubi di energia e inflazione, PIL semestrale a più 5,8%, Banca Italia vede nero sul futuro dell'economia, cresce il lavoro al termine, mentre il caso di oggi declina il Covid, Almaviva si ritira, 600 posti sono adesso a rischio. E per quanto riguarda ancora la questione assessori al governo regionale, vedete il dossier di Repubblica, tutti vogliono il Bancomat del turismo. Interessante intervista a PIF che dice l'algoritmo della politica che ci fa tornare indietro, dunque all'interno poi questa importante e interessante intervista. Mentre si parla chiaramente di crisi, e allora il Comune, vedete, a Palermo, luce a LED per Natale, Capodanno in piazza, faremo una festa, ma risparmiando. È un po' una questione che caratterizza tutte le amministrazioni, tutti gli enti locali. Andiamo avanti con la nostra segna stampa, adesso andiamo sull'edizione nazionale di Repubblica. Si parla in questo caso dell'incontro tra Biden e Xi, si parla, vedete, di disgelo, Ucraina no all'atomica, tre ore di faccia a faccia, tensione su Taiwan, per i cinesi linea rossa da non superare, vertice delle spie ad Ankara, il capo della CIA vede il collega russo, dialogo sul nucleare. Mentre per quanto riguarda l'altro argomento di giornata, ovvero l'emergenza migranti, è la telefonata di Mattarella Macron, potere ai prefetti, fermare le ONG, cambia il decreto sicurezza, evitare le procure e poi vedete colloquio telefonico tra Mattarella e Macron, ma l'Eliseo aspetta adesso un segnale da Palazzo Chigi dopo la crisi diplomatica degli ultimi giorni. Siamo sul Corriere della Sera che apre con questo importante incontro Biden e Xi intesa a metà, insieme tre ore, no alle armi nucleari in Ucraina, ma nessun progresso su Taiwan. Washington comunque assicura nessuna guerra fredda, Lavrov, giallo sul ricovero e poi la missione di Giorgia Meloni a Bali. L'altro argomento di giornata, ovvero la telefonata tra Mattarella e Macron, collaborazione per fermare le tensioni, l'Europa, le navi ONG uguali alle altre, obbligo e salvare vite, Tajani dice valuteremo ogni caso, dunque ognuno al momento resta fermo sulle proprie posizioni, ma questa chiamata di Mattarella potrebbe un po' sciogliere la situazione, sciogliere le parti, vedremo se in effetti avrà questo risultato. Ci spostiamo adesso sul quotidiano La Stampa, vedete Xi Biden il disgelo, accordo sull'Ucraina, no al nucleare, Pechino Putin non ci disse la verità, resta però il nodo Taiwan. Al G20 stretta di mano e primo contatto tra i due leader dal 2017, il presidente americano oggi vede anche Giorgia Meloni e questa vedete la foto della stretta di mano, mentre per quanto riguarda i migranti anche la stampa ovviamente dedica spazio in prima pagina alla telefonata di Mattarella, Mattarella che ricuce, vedete lo strappo con Macron. L'Unione Europea dice ONG libere di soccorrere, intervista a Crosetto, ma ora l'Europa ci ascolta. Lasciamo anche la stampa, questo è il quotidiano Il Giornale, si parla anche qui di nodo migranti, Mattarella telefono amico, chiamata Eliseo Quirinale per cercare una soluzione al caso ONG, intanto l'Italia alza la voce, l'Europa nicchia, ma Macron fa accordi con Londra su Calais. E poi questo importante incontro G20 a Bali, Stati Uniti, Cina, grande disgelo, accordo su Armi e Kiev, ma è sempre tensione su Taiwan, mentre Pechino, vedete, cambia, rotta e lascia Putin al suo destino e poi segnali di pace per l'Ucraina 007 in campo, vertice tra CIA e colleghi russi. Speriamo di essere veramente a una svolta. Andiamo avanti, abbiamo ancora tante prime pagine da vedere, questa ad esempio è la prima pagina del Fatto Quotidiano, è questo il titolo di apertura, Biden, Xi e Putin trattano, l'Unione Europea invece litiga. Spiragli, summit, Stati Uniti, Cina e vertice sull'Ucraina fra capo della CIA e 007 russi, mentre l'Europa è spacciata, vedete, questa è la definizione, dispetti Ursula Michel, mentre le vere potenze parlano di Kiev e Taiwan. Dunque il Fatto Quotidiano critica decisamente, apertamente gli stati dell'Unione Europea, mentre in questo caso si sofferma sulla voglia, sugli spiragli di trattativa tra le altre superpotenze mondiali. Il Quotidiano Il Tempo parla di migranti, di emergenza sbarchi, Italia, Porto d'Europa. I dati Frontex sull'accoglienza smentiscono Parigi e Berlino, da noi un terzo dei migranti. Mattarella parla con Macron per ricucire, poi sente Giorgia Meloni, piena collaborazione. Il governatore della Liguria, Toti, così la Francia respinge tutti al confine, anche i minori. E poi l'altra notizia di giornata in taglio centrale, prima stretta di mano tra Biden e Xi, ma per ora la pace è solo a parole, mentre si parla anche del PD, in questo caso della situazione del Partito Democratico nel Lazio. Il PD si spacca pure sulle primarie, polemiche tra i dem anche per l'assemblea di sabato da remoto. La Nazione Benefit in busta paga, chi ci guadagna, titola in questo caso la Nazione, sale a 3.000 euro, la soglia esentasse delle spese rimborsabili ai dipendenti, rientrano anche bollette e benzina, ma i tempi sono stretti. Pensioni, la ricetta dell'UIL, basta quote, stop al lavoro con 41 anni di contributi, super bonus, lira di costruttori e proprietari, così dicono salta tutto. E poi una triste storia, vedete che coinvolge questa ragazza di 23 anni, uccisa due volte, era fuggita dall'Ucraina in guerra, ha trovato la morte a Fano, è stata pugnalata dall'ex marito violento, davvero un'incredibile tragedia. Il quotidiano Libero torna a criticare, ad attaccare la Francia, la Francia si fa pagare per fermare i migranti, altro che accoglienti, scrive Libero. Londra dà 72 milioni a Parigi perché blocchi le partenze verso l'Inghilterra, Macron isolato adesso si aggrappa a Mattarella. E ancora CIA e KGB si parlano, Zelensky si adegua, la pace è più vicina, stretta di mano tra Biden e Xi, scrive in questo caso Libero. E poi da spazio agli studenti, però vedete è una critica, una chiara critica perché Libero parla di piazze ignoranti, scrive gli studenti protestano ma non sanno contro chi. E poi Libero si occupa anche della polemica di su Enrico Montesano al programma Ballando con le stelle, se anche il sito del Ministero celebra la decima mass, ipocrisia in onda a Ballando con le stelle, Montesano è stato cacciato dalla RAI e l'errore di Montesano, sottolinea Libero, vedete, non è stato indossare quella maglietta ma fare al ballerino, ma fare il ballerino, quindi partecipare al programma. Ed ora andiamo a vedere come tutte le mattine anche le tre principali, prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani, ovvero Gazzetta, Corriere Tutto Sport. Partiamo dalla Rosea, dalla Gazzetta che mette sotto i riflettori la Juve, la signora fa miracoli, la Juve e la super scalata in campionato. Allegri pronto a provarci ancora con i recuperi di Pogba e Chiesa, possibile colpo Karlsdorp per gennaio, Galeone dice se arriva un difensore centrale, Max può svoltare del tutto. Si parla anche di mercato anche per le milanesi, Milan parla Pavard che dice sono tentato dalla Serie A e vorrei giocare con Giroud. L'Inter invece in questo caso si parla di rinnovi, prima Skriniar, poi Dzeko, un rinnovo, tira l'altro. Lasciamo la Gazzetta, questa è la prima pagina della Corriere dello Sport, Lucio resta qui, parliamo chiaramente di Spalletti, parla Giuntoli, Napoli e Spalletti insieme ancora a lungo, parla l'uomo che ha costruito lo squadrone azzurro. Un'opzione garantisce al club il rinnovo del tecnico, De Laurenti se un fuoriclasse anticipa il futuro, Haaland il mio rimpianto più grande. Queste le parole di Giuntoli. Il Mondiale, al Mondiale arrivano i nostri, vedete questa foto, domenica il Via Al Qatar 2022, a Doha un pieno di Serie A, si parla quindi dei calciatori che arrivano dal nostro campionato, la Juve la più rappresentata con 11 giocatori, Di Bala guida la pattuglia romanista, anche senza gli italiani, c'è tanta Italia in cima al mondo. Questo invece è tutto sport, si parla di Juve, blitz francese, in questo caso vedete il calciomercato, in pratica sotto i riflettori, i bianconeri si sono mossi per l'attaccante del Muschengladbach, conteso da Bayern e Inter, e il terzino destro del Lione, obiettivo anche di Real, United e Chelsea. Può arrivare a gennaio, adesso è il momento già di pensare anche al calciomercato, perché gennaio insomma si avvicina, cominciano le manovre, c'è questo mese di sosta durante i quali si svolgerà il Mondiale e quindi i vari dirigenti, i vari club possono già fare le proprie valutazioni sul mercato. Noi intanto ci fermiamo qui, chiudiamo questa edizione odierna della Rassegna Stampa, ora come sempre tutte le nostre edizioni di Spazio Notizia per tenervi sempre aggiornati, a più tardi.